Noi, noi, equilibristi come angeli, caduti qui nel centro del nulla, mangiamo fuoco per tenerci vivi e dentro la testa c'è un'incredibile esplosione in vita, inarrestabili. Ci scambiamo energie speciali e richiami per creare correnti ascensionali. Come quei due amanti che Dante fa girare in eterno, ci cerchiamo tra mille uraiali. Quale bellezza, quale bellezza, ci può salvare solo la purezza, scatena i venti, il fuoco i sensi, i desideri più sommersi. È un'incredibile infusione di vita a vita, pronta ad esplodere. Ci scambiamo energie speciali e richiami per creare correnti ascensionali. Come quei due amanti che Dante fa girare in eterno, ci vediamo tra mille uraiali. Il primo è un'incredibile esplodere. Il primo è un'incredibile esplodere. Che cosa è il peccato? Ci scambiamo energie mentali e richiami per creare correnti verticali. Come quei due amanti che girano sempre giù all'inferno con la forza dei mille uragani. E richiami, mille uragani. Mille richiami, mille uragani. Nelle due mani!